Una buona serata, terza ed ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo con lo scontro tra ASL e politica su Italia e presidi di Guardia Medica nel Terramano. Mariani, Monticelli e Dino Pepe del Partito Democratico parlano di decisione non condivisa dalla politica mentre Sottarelli prepara un'interrogazione al Ministro della Salute. Intanto l'ASL apre ad eventuali modifiche rispetto alla sforbiciata di sette guardie mediche. Alfredo Primante. Arriverà fino a Montecitorio la polemica partita dalla provincia di Terramo sul taglio al servizio di Guardia Medica. I cittadini saranno costretti a spostarsi di molti chilometri o a riversarsi nei pronto soccorso anche per problemi banali e meno gravi. Così il deputato di scelta civica Giulio Sottanelli che sta predisponendo una nuova interrogazione al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin che sarà presentata alla ripresa dei lavori parlamentari. Oggetto del contendere in particolare tre sedi di Guardia Medica Castellalto, Colledara e Nereto per le quali è prevista la chiusura già dal primo ottobre per effetto di una recente delibera della ASL Terramana che prevede la chiusura di sette sedi di Guardia Medica Campli, Castellalto, Cermignano, Colledara, Fano Adriano, Nereto e Valle Castellane in modo definitivo oltre allo spostamento della sede di Torricella a Rocca Santa Maria. E l'ennesimo schiaffo alle aree interne che oltre a subire il persistere della crisi economica ora vedono anche negato il diritto alla salute e questo è il commento piccato del sindaco di Colledara Manuele Tiberi mentre si dice pronto a dare battaglia anche il sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco. La replica della ASL di Terramo è affidata ad un comunicato della Direzione Generale in cui non si esclude la possibilità di rivedere le decisioni qualora si manifestassero reali esigenze assistenziali. Nella nota dell'azienda sanitaria viene anche ricostruito tutto l'iter di questa decisione evidenziando che la scelta delle sedi è stata fatta tenendo conto sia del numero di visite effettuate in ogni sede sia sulla base della distanza chilometrica tra una sede e l'altra. Di un atto della ASL che non ha avuto alcuna condivisione politica infine parlano i consiglieri regionali del Partito Democratico Mariani e Monticelli e l'assessore Dino Pepe. In un comunicato congiunto dicono di essere assolutamente consapevoli dell'importante processo di riorganizzazione funzionale della medicina territoriale ma chiedono che i cambiamenti avvengano gradualmente per garantire ai cittadini il mantenimento prima ancora del potenziamento dei servizi esistenti. La giunta regionale riunitasi questa mattina a Pescara ha approvato la delibera che destina 229 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione a lavori di manutenzione della rete viaria nelle quattro province e al potenziamento dei depuratori su tutto il territorio regionale. Le strade provinciali sono state destinate in totale 100 milioni di euro, 28 milioni alla provincia di Chieti, 26 a quella di Teramo, 24 a quella di Pescara, 22 a quella dell'Aquila. Altri 100 milioni invece sono stati assegnati all'implementazione del sistema depurativo, 30 milioni per la realizzazione dei nuovi depuratori a Pescara e a Spoltore. Altri 70 milioni andranno a finanziare il sistema depurativo al servizio di zone turistiche e urbane del Teramano, dell'Aquilano e del Chietino. Gli ulteriori 29 milioni infine verranno assegnati ai comuni per progetti sull'impiantistica sportiva, sul turismo e la cultura. E' un'intera area agricola a rischio. Il Movimento 5 Stelle denuncia la realizzazione di una piattaforma per il trattamento e il recupero dei sedimenti di dragaggio che dovrebbe sorgere a Città Sant'Angelo. Secondo le carte l'area sarebbe definita industriale. A rischio importanti colture DOP e IGT. Il servizio è di Francesca Romana Testi. Un'interpellanza rivolta al presidente della regione Luciano D'Alfonso che arriva dopo segnalazioni di associazioni e cittadini di comuni interessati dalla realizzazione di una piattaforma per il trattamento e il recupero dei sedimenti di dragaggio fluviali e marino costieri. Il nocciolo della questione ruota intorno ad una contraddizione tra carte e stato effettivo dell'area. Se da un lato l'area interessata a località Piano di Sacco a Città Sant'Angelo risulta come zona industriale, dall'altra sono i residenti a denunciare che quelle aree sono a vocazione prettamente agricola e soprattutto da quelle aree arrivano alcuni dei più blasonati prodotti da Abruzzo a marchio DOP e IGT. Sì, intanto è una battaglia che stiamo conducendo ormai da mesi con tutta una serie di associazioni ambientaliste e comitati. Abbiamo partecipato al comitato via regionale, abbiamo interessato i massimi vertici della regione Abruzzo per bloccare quest'operazione che a nostro avviso impatta fortemente sull'ambiente e sul territorio. Parliamo di Piano di Sacco di Città Sant'Angelo dove una ditta vorrebbe insediare questo impianto di trattamento dei sedimenti di dragaggio. Noi diciamo no per due motivi, uno perché c'è un forte impatto ambientale e quel territorio pur essendo industriale a vocazione agricola e non ha tutta una serie di servizi affini che potrebbero mettere in sicurezza il territorio. Secondo l'interpellanza quell'area, nonostante sia stata denominata industriale, non sarebbe dotata di fognature, impianto di depurazione, antincendio, relative vasche. Infine i 5 Stelle muovono dubbi anche sulla società che dovrebbe occuparsi dell'opera. Abbiamo anche fatto rilevare che la ditta proponente è comunque stata interessata a una grande inchiesta, quella sul dragaggio del porto di Pescara. Chi viene interessato in un'inchiesta che riguarda smaltimento di rifiuti, a nostro avviso, secondo la nostra visione della politica, non può continuare a gestire quel tipo di prodotto. Quindi ho presentato un'interpellanza in Regione Abruzzo, depositata l'altro ieri, mi dovrà rispondere il Presidente della Regione Abruzzo al quale chiediamo di intervenire prepotentemente e bloccare questa operazione. Ho interessato il Comitato Via per l'ennesima volta perché si dovrà esprimere a breve. Le associazioni hanno presentato tantissime osservazioni tecniche, specifiche e amministrative e ritengo che questa procedura vada bloccata. Spostiamo all'Aquila adesso perché la dismessa Caserma Rossi potrebbe divenire un centro unico abruzzese di accoglienza dei migranti. Noi con Salvini e Casa Pound dicono di no. Daniela Rosone. Potrebbero essere temporariamente alloggiati nella dismessa Caserma Rossi dell'Aquila i migranti che arrivano in Abruzzo. L'ipotesi che la Caserma Aquilana possa divenire un centro unico potrebbe essere presto realtà. Secondo il capogruppo di noi con Salvini in Comune, Emanuele Imprudente, questa soluzione che per ora è temporanea potrebbe divenire in futuro stabile. Attualmente, lo ricordiamo, sono 675 profughi ospitati nei centri di accoglienza temporanea della provincia, mentre il totale regionale è di 2.498 con la provincia di Chieti a quota 664, quella di Pescara a 150 e infine la provincia di Teramo che ha colto 649 migranti. Qualche giorno fa sono arrivati all'Aquila, ma solo di passaggio, gli ultimi 40 profughi assegnati alle strutture di accoglienza delle altre province, 20 a Chieti, 10 a Pescara e altri 10 a Teramo. La città, secondo Emanuele Imprudente, non può permettersi ad oggi dopo il terremoto l'accoglienza dei migranti. In Abruzzo ad oggi le caserme dismesse, ricorda, sono due. La Rossi, che prima ospitava il nono reggimento Alpini, oggi alla Pasquali dopo la chiusura del 33esimo reggimento Artiglieri Acqui, e la Battisti di Sulmona. Il dubbio legittimo che viene, afferma Imprudente, è che si stiano cercando degli spazi pubblici già allestiti, colletti e quant'altro. Fermo restando, dice ancora che i rifugiati politici vanno sempre accolti, è giusto e meno dispendioso tuttavia aiutare chi si sposta per problemi economici in casa propria. Imprudente parla anche del rischio che i migranti possano essere accolti negli appartamenti del fondo immobiliare, che ci sono all'Aquila dopo il terremoto. Intanto in città è comparso uno striscione di Casa Pound, con scritto Refugees Not Welcome, cioè i profughi non sono i benvenuti. Con questa azione vogliamo dar voce alla perplessità dei cittadini sulla trasformazione dell'ex caserma in un centro accoglienza, ufficialmente temporanea ma che potrebbe trasformarsi in definitiva. Continueremo la battaglia contro questo business di pochi privati che lucrano sui lati appalti per l'accoglienza, ha detto Simone Laurenzi di Casa Pound. Già in precedenza, lo ricordiamo, a Pizzoli, popoloso comune dell'Aquilano, erano comparsi degli striscioni. Era intervenuto il sindaco Gianni Anastasio per la rimozione, ma aveva comunque specificato il primo cittadino che a Pizzoli esiste già un sostanzioso numero di migranti ben integrati e che il comune dell'Aquila non poteva permettersi altro. Ricordiamo anche che nell'idea del primo cittadino Massimo Cialente c'era quella concreta di trasformare tutta l'area della Rossi in una cittadella dove raggruppare tutte le scuole aquilane. Andiamo a Pescara adesso. Il centrodestra, dopo numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, chiede all'amministrazione comunale di potenziare le pattuglie notturne della Polizia Municipale per garantire più sicurezza nella città. Sicurezza ancora al centro della polemica. Pescara diventa una città, preda dell'incuria, dei balordi e dell'accattonaggio. Il centrodestra torna a denunciare poca sicurezza e chiede un intervento deciso dell'amministrazione per poter ripristinare ordine anche laddove pochi giorni fa sono state fotografate scene poco edificanti dai passanti. Noi lo stiamo dicendo da mesi che la città verse in uno stato di totale degrado, totale abbandono e non c'è una regia politica che governa dei processi fondamentali per la nostra città. Una città che vede in ogni strada, dalla periferia alle parti centrali, una incuria devastante, aiuole non manutenute, strade totalmente dissestate e poi c'è un problema molto percepito dalla popolazione pescarese, ossia quella della sicurezza. Oramai tutti i giorni ci sono atti di vandalismo, spaccate, persone vengono aggredite. Sappiamo che la sicurezza non è un tema centrale di un'amministrazione comunale, però noi riteniamo, invochiamo altavoce che il sindaco Alessandrini si faccia sentire dentro il Ministero degli Interni per potenziare il lavoro già pregevole che le forze dell'ordine fanno. Così noi chiediamo che con insistenza che venga in maniera definitiva affrontato il problema del servizio notturno della Polizia Municipale, perché potrebbe essere un deterrente fondamentale. Così chiediamo come mai il Comune vuole fare un bando per degli stagionali, 15 stagionali. Parlo della Polizia Municipale, siamo oramai all'11 agosto, la stagione volge al termine, e quindi anche qui sommiamo e cumuliamo ritardi ormai incredibili. Il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso ha ricevuto a Pescara una delegazione del Comune di Farindola guidata dal sindaco Ilario Lacchetta. L'amministrazione Vestina ha rappresentato al Presidente due necessità. Un intervento contro il dissesto idrogeologico che ha colpito il centro del Paese nel novembre del 2013 per il quale c'è già un progetto esecutivo del valore di 600 mila euro e il completamento della cittadella dello sport da dotare di terreni in sintetico del costo di 250 mila euro. D'Alfonso ha assicurato di riuscire a dare una risposta concreta con una tempistica adeguata dopo lo studio del caso nel dettaglio. Torniamo all'Aquila adesso. La chiusura di via Aldomoro e di via San Gabriele della Dolorata nel quartiere di San Sisto sta creando disagi a non finire a famiglie e commercianti. Residenti dei palazzi segregati senza viabilità alternative e commercianti ancora più piegati dai disagi. Una situazione paradossale che è anche dell'incredibile. Dal 22 giugno scorso via San Gabriele della Dolorata all'Aquila nella zona di San Sisto è completamente chiusa. Il motivo? Un'antica fornace di proprietà privata che risulta pericolante al rischio crollo. Da anni così almeno 12 ci spiegano. Il guaio è che in zona insistono tantissime attività commerciali ma anche molte famiglie che abitano in condomini ristrutturati e che tra due mesi circa sono completamente tagliate fuori. Un disabile addirittura non può più uscire da casa. Commercianti e famiglie sono barricati e infuriati anche perché non esiste una viabilità alternativa e nessun intervento si sta portando avanti. Commercianti e famiglie stanno portando avanti tra l'altro anche una raccolta firme per chiedere al comune di intervenire al più presto. Come si può vedere anche dalle riprese qui spiegamente in via San Gabriele da due mesi le famiglie sono completamente isolate di cui il problema più grande è che a distanza di 50 metri da qui ci sono anche delle persone disabili. Se eventualmente dovrebbe intervenire un'ambulanza io non so realmente che cosa potrà succedere. Questa è la cosa più importante. Una situazione che è resa ancora più pesante dalla chiusura della vicina via Aldomoro interessata lo scorso 25 luglio da una frana che ha interrotto la viabilità nell'importante arteria di collegamento per la zona di Valle Pretara e per la quale c'è un'inchiesta della procura. La strada è stata messa a rischio crollo dall'intervento di abbattimento di un palazzo adiacente al manto stradale. I lavori di scavo delle fondamenta del palazzo hanno sottratto stabilità al manto stradale che è rovinosamente franato. La strada è chiusa a qualsiasi passaggio sia di auto che di pedoni per la salvaguardia dell'incolumità, ma nessuna rassicurazione in ordine a un intervento di ripristino della viabilità è stata data agli operatori residenti del quartiere che hanno addirittura sentito parlare di oltre sei mesi di chiusura. Tante, dicevamo, le attività commerciali che alimentavano i servizi primati nel quartiere costrette ora a fare i conti con l'interruzione di affluenza dovuta senza dubbio al repentino blocco della strada. Queste attività commerciali che sono in questa zona sono già allo stremo visto che la crisi è già totale. Con queste chiusure delle strade sia di Via Aldomoro che di Via San Gabriele a Dolorata purtroppo non potremmo vivere a lungo. Il problema più grande è che le istituzioni in questo momento Via San Gabriele è chiusa da due mesi. Ogni giorno dicono sì, stiamo provvedendo, stiamo facendo ma in realtà queste cose non stanno andando avanti. Via Aldomoro, che è una di quelle strade principali in questo momento la viabilità è completamente chiusa cioè per arrivare alle attività commerciali i clienti non sanno come fare. La cosa più importante è che fra qualche giorno ripartiranno le scuole e in quelle zone in cui la viabilità, pullman, scuole, poste, banche e quant'altro sono irraggiungibili. A Pescara da martedì prossimo sarà introdotta la carta d'identità elettronica tante nuove funzionalità e soprattutto maggiore sarà la sicurezza contro il furto dei dati. Un nuovo servizio dal comune di Pescara, in questo caso si parla di carta d'identità elettronica da quando verrà introdotta? Sì, da martedì iniziamo ufficialmente appunto a consegnare le nuove carte elettroniche digitali una rivoluzione attesa in Italia da 19 anni e Pescara parte insieme ai primi 200 comuni d'Italia e abbiamo quattro postazioni, tre saranno in Piazza Italia e una in Piazza Grue mentre nelle altre circoscrizioni non verrà ancora attivata in attesa dell'arrivo delle altre postazioni che il Ministero ci ha garantito e la nuova carta costerà 22,21 euro e verrà consegnata direttamente a casa dal postino entro sei giorni. Diciamo che sicuramente è una rivoluzione che creerà qualche disagio al cittadino abituato a poterla riprendere direttamente e a pagarla anche molto meno dato che è cartacea ma vero è che avrà con sé tantissimi vantaggi ricordiamo che su questa carta ci sarà l'impronta digitale sarà molto più difficile clonarla, al contrario del passato e sarà più semplice andarci all'estero in più sarà dotata di un PIN con il quale sarà possibile accedere a tantissimi servizi legati agli enti statali e comunali Terzo giorno a Isola del Gran Sasso per la Tendopoli di San Gabriele il tema dibattuto è quello della misericordia tema caro a Papa Francesco Paolo Renzetti Padre Cordeschi, 36esima edizione della Tendopoli di San Gabriele quest'anno il tema è quello della misericordia un tema più che mai attuale fortemente voluto da Papa Francesco Sì, noi l'abbiamo attualizzato la misericordia si è fatta tenda cioè il Papa ha detto che il nome di Dio è misericordia è bellissimo pensare che questo nome di Dio, questa misericordia abita l'uomo abita la tenda perché l'uomo è la tenda di Dio quindi l'uomo è il luogo della misericordia per eccellenza un'atendopoli che vede anche quest'anno tanti giovani provenienti da tutta Italia ma anche dal Sud America Sì, questo era un mio sogno non so, forse lo sapranno tutti ma degli amici miei nel giorno della mia festa del 50 anni della mia professione mi hanno fatto delle offerte mi hanno regalato circa 6.000 euro e io ho avuto la possibilità di far venire da Venezuela questi ragazzi che da 20 anni in Venezuela e da 8 anni in Colombia portano avanti la tendopoli quindi sono in Venezuela, in Colombia adesso andremo in Peru ed in Panama stiamo vivendo questa bellissima esperienza Siamo con Claudio che arriva dal Venezuela la prima volta in Italia in Abruzzo La prima volta in tendopoli, in Italia no Come hai trovato questa tendopoli, San Gabriele questo ambiente così pieno di ragazzi, pieno di giovani È un ambiente bellissimo perché là in Venezuela adesso tante comunità insieme non si vede per la situazione Una tendopoli importante, si parla quest'anno il tema è quello della misericordia c'è tanto bisogno oggi di misericordia, di solidarietà Sì, in questo tempo e in tutti i paesi soprattutto Venezuela la misericordia ci vuole tanto E a Pianella si è svolto un incontro per presentare il recupero del simbolo della cittadina in provincia di Pescara la Torre della Tolfa Bestina News Siamo qui davanti alla riproduzione di quello che è il simbolo per eccellenza per antonomasia della nostra città la Torre Civica della Tolfa ovviamente realizzata questa volta secondo una lettura moderna che vuole vedere questo simbolo non più come luogo di difesa e di chiusura, di protezione ma come un luogo di apertura alla cultura e al futuro Il progetto appunto della Prologo di Pianella che ha visto la realizzazione di manifestazioni importanti turistico e culturale come in Canti sotto la Luna lo Buongiorno, il Rosone d'Oro e da ultimo appunto la realizzazione di due pannelli turistico-culturali e della Torre Civica che vediamo qui alle mie spalle Grande soddisfazione per questa iniziativa della Prologo davvero un progetto straordinario che si colloca in quella che è la più ampia progettualità dell'amministrazione comunale ed in perfetta sinergia con questa Certo, la Torre, il simbolo della identità che è presente nel nostro confalone oggi viene recuperata con un intervento mirabile dell'architetto Cancelli ed è un modo per garantire ai giovani ricordare l'identità ma proiettarli verso il futuro Il patrimonio di Pianella è stato messo a repentaglio nei decenni scorsi infatti il simbolo è proprio questa Torre Civica il valore simbolico dell'ubicazione naturalmente non è quella che la Torre aveva nel periodo medievale ovviamente di integrazione, di inclusione di facile fruibilità in quanto è all'ingresso di un istituto comprensivo A Tottea di Cronialeto in provincia di Teramo in programma il 17 e 18 agosto la decima edizione della Notte Azzurra fra gli eventi in programma ci sono la Pompieropoli e il concerto di Roberto Vecchioni Sindaco, la decima edizione della Notte di Tottea vedrà quest'anno vari avvenimenti nell'ambito di questo appuntamento Pompieropoli, poi il concerto di Roberto Vecchioni tanti eventi per un'edizione sempre più importante Sì, certo è un segno di passo decima annualità, ancora una volta l'associazione Prologo di Tottea che io ringrazio per la valenza del territorio per quello che riesce a concretizzare ha fissato un punto di arrivo un importante cantante un evento canoro di rilevata importanza nell'ambito provinciale che gratifica il nostro territorio un altro valore aggiunto è quello che insomma quest'anno siamo riusciti a portare all'interno di questa manifestazione Pompieropoli che è un po' l'addestramento dei più piccoli all'attività dei Vigi del Fuoco Tottea ha inserito l'immagine dei Vigi del Fuoco con questa Pompieropoli che è veramente molto interessante un percorso ludico per i bambini ma più che percorso ludico direi che è un'immagine dei Vigi del Fuoco che ovviamente viene mostrata e quale categoria migliore per veicolare la sicurezza e la prevenzione nell'ambito della nostra vita quotidiana qual è quella dei bambini Chemical Brothers e Paola Turci sono i due grandi nomi che animeranno il Ferragosto pescarese si parte domani proprio con i Chemical Brothers vediamo Nuovo appuntamento per il cartellone estivo di Pescara questa volta il 12 agosto si tratta di un concerto che ha solo due date in Italia una delle quali è proprio Pescara Sì, oggi presentiamo una serie di appuntamenti che scalderanno l'estate della nostra città da qui al Ferragosto il più importante è quello è l'appuntamento con i Chemical Brothers un evento in esclusiva per la nostra città un evento internazionale con solo due date in Italia l'abbiamo voluto fortemente nella nostra città e ci sarà il 12 agosto nell'area tra lo stadio e l'antistadio un evento importantissimo che farà arrivare in città tantissima gente e poi ci prepariamo per le altre manifestazioni avremo un Ferragosto davvero che si propone come uno un appuntamento importantissimo a livello nazionale perché ci sarà sia il concerto la grande festa del Pescara Dance Festival all'Arena del Mare con la DJ Ellen Allen anche lei è una DJ di fama internazionale poi invece allo stadio del mare nave di Cascella avremo il concerto di Paola Turci quindi si preannuncia un 15 agosto davvero molto importante cosa che non accadeva nella nostra città da tantissimi anni e questo è un dato importantissimo appunto perché rilancia quella che vuole essere la vocazione turistica e l'economia del turismo tutta con degli appuntamenti davvero quest'anno straordinari al di là della sfortuna del tempo siamo riusciti a programmare davvero un calendario importantissimo di livello nazionale e invece saranno gli ASEAN DAB Foundation a spegnere le candeline del decimo anniversario del festival Pinetnie Moderne con il gruppo londinese l'appuntamento è per il 14 agosto al Parco della Pace ovviamente a Pineto decima edizione di Pinetnie Moderne il festival della musica si svolgerà dal 12 al 14 agosto al Parco della Pace tra l'altro quest'anno ci sono gli ASEAN DAB Foundation Sì esatto quest'anno è il decimo anno festeggiamo il decennale siamo riusciti noi dell'associazione Risvegli Sonori a portare per il primo anno un gruppo internazionale del calibro del ASEAN DAB Foundation direttamente da Londra un gruppo che parla da solo 11 anni che stanno sul campo hanno fatto 11 LP sono nei principali festival internazionali e nazionali a pagamento invece qui al Parco della Pace il 14 agosto è tutto gratuito insieme alle altre due serate il 12 agosto partiamo con Ili Darac che hanno aperto la manifestazione il primo anno del 2007 quindi con loro festeggio il ventennale e con noi il decennale Alessandro Coppola e il frontman Salentino poi il 13 agosto ci saranno i Melon Mood con il reg quindi la musica cambia e poi la chicca della Kermess il 14 agosto gli ASEAN DAB Foundation tutto un evento gratuito noi dell'Associazione dei Svidi Sonori abbiamo fatto veramente tanti sforzi per portarlo qui in Abruzzo forse è il festival più grande quest'anno fra tutti gli eventi vorrei ringraziare tantissimo tutti gli sponsor e anche il Comune di Pineto che ci ha dato una grossa mano e speriamo che il tempo insomma ci assiste e siamo pronti Adesso apriamo la pagina dello sport partiamo ovviamente con il calcio di Serie A con il Pescara ieri c'è stata la presentazione della Rosa 2016-2017 anche se in completa ormai sembra fatta sul fronte mercato per l'arrivo di Ghiomber difensore della Roma ma è in attacco il più vicino è Marcello Trotta del Sassuolo Presentato il nuovo Pescara quello che dovrà cercare di centrare la salvezza in Serie A la Rosa non è ancora completa e col mercato aperto non sarebbe potuta esserlo per forza di cose anche se la società biancazzurra per bocca in primis del presidente Daniele Sebastiani lavora su tutti i reparti e conta di arrivare al primo impegno stagionale col Napoli quasi al completo in difesa arriverà Ghiomber della Roma ormai manca solo l'ufficialità il difensore è pronto a lasciare la Roma dopo che nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra la società giallorossa l'agente del calciatore Venglos e il suo collaboratore Petras l'operazione è stata definita e chiusa il classe 1992 oggi partirà alla volta di Pescara il club biancazzurro nelle prossime ore limerà anche gli ultimi dettagli incontrando ancora gli agenti dello Slovacco e poi arriverà l'ufficialità non sarà l'ultimo innesto però perché Gaston Silva è vicino a sposare il progetto del Delfino Mia Aelovic lo ha bloccato per il match di Coppa Italia vista l'indisponibilità di Molinaro e dunque ci sarà ancora da aspettare discorso di attesa che potrebbe riguardare anche i due nerazzurri Yao e Nukuri con cui c'è già un accordo di massima in mediana c'è l'obiettivo Alberto Aquilani le strade sembrano avvicinarsi e il giocatore potrebbe chiudere col Pescara un contratto biennale a 500 mila euro di base più bonus ed incentivi legati a presenze reti obiettivi di squadre personali il Pescara inoltre ha chiesto al Napoli il prestito di Grassi attenzionato però anche dal Chievo con Gaston Brugman che invece potrebbe essere ceduto da qui alla fine della finestra di calcio mercato infine l'attacco trotta in gol nel trofeo team di ieri con la maglia del Sassuolo non sembra però rientrare nei piani di Eusebio Di Francesco e del più vicino ai Biancazzurri con Mitrizza e Nicastro il cui futuro è ancora incerto nei giorni scorsi per l'altro nome è spuntato Federico Macheda anche se attenzione alla situazione Iemmello che non ha trovato l'accordo con lo Spezia e potrebbe accettare le losing di Big di Serie A ed essere poi girato in riva all'Adriatico e oggi era il giorno in Lega Pro dei calendari e c'era attesa per vedere quale sarebbe stato il cammino del Teramo lo scopriamo insieme nel prossimo servizio partirà dallo stadio Tuglio Saleri di Lumezzane il cammino del Teramo nella prossima Lega Pro la sfida contro i Lombardi sarà la prima di 38 appuntamenti che vedranno il diavolo provare a riscattare una stagione opaca nel Teatro Reggio di Parma il sorteggio dei tre gironi e per il diavolo subito un test duro contro gli uomini di Antonio Filippini l'esordio al Bonolis la settimana successiva contro il Bassano alla quarta 14 settembre primo turno infrasettimanale il diavolo se la vedrà tra le mura di casa col Modena appena retrocesso dalla Serie B mentre dopo quattro giorni la partita speciale per Zauli Ilari e Peterman al Valentino Mazzola contro il Sant'Arcangelo altro match dall'indubbio fascino all'ottava in Abruzzo arriva il Padova con i biancoscudati i veneti che stanno tentando una fannosa risalita verso palcoscenici di primo livello la settimana successiva 16 ottobre trasferta contro una delle pretendenti al primo posto il Venezia di Filippo Inzaghi altro match che sicuramente non denuderà le attese quello del 13 novembre a Riviera delle Palme per un San Benedettese Teramo già da grande pubblico la settimana dopo biancorossi che ospitano l'Ancona e poi si recano a Reggio Emilia per sfidare i Granata della Reggiana la penultima giornata però 11 dicembre lo scontro che tutti aspettano al Tardini va in scena Parma-Teramo prima di concludere il girone in andata contro la Felalpi Salò in terra d'Abruzzo particolarità di quest'anno è il Boxing Day come in Inghilterra si gioca durante le festività natalizie il 26 e il 30 a Santo Stefano inizia il girone di ritorno con la prima giornata alla vigilia del nuovo anno la trasferta a Bassano tra i turni infrasettimanali il 13 e 14 settembre il 6 e 7 dicembre e il 4 e 5 aprile altra novità sarà il turnover un girone giocherà sempre di sabato per tre mesi gli altri due di domenica poi il cambio fino alla chiusura del campionato si inizia domenica 28 agosto stagione regolare che terminerà domenica 7 maggio poi via playoff e playout sognando il salto in serie B il Teramo è pronto a partire anche se dovrà farlo senza Stefano Amadio il centrocampista escluso anche dall'amichevole vinta a Morrodoro è destinato a fare le valigie e lasciare i biancorossi scendiamo adesso in serie D perché sono ufficiali i gironi della quarta serie nazionale 162 squadre in totale le abruzzesi sono state separate questa è la novità 4 sono nel girone F e 2 nel girone G nel classico girone F sono state inserite il Chieti il Pineto il San Nicolò e la Vastese saranno insieme alle squadre marchigiane alle molisane e alle romagnole Avezzano e l'Aquila invece fanno parte del raggruppamento G quello che comprende squadre laziali Sarde e Umbre questa era anche la nostra ultima notizia la terza edizione del nostro telegiornale si chiude qui io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buonanotte a e a a a a Grazie a tutti.